Questa mattina i lavoratori del settore ambiente della Gesema si sono ritrovati nei pressi del palazzo di città di Mercato San Severino per scioperare, ma soprattutto per capire quale possa essere il loro futuro e quello della Gesema. Nel frattempo, come si suol dire, mentre il medico studia, il malato muore, le famiglie dei lavoratori non riescono ad arrivare a fine mese, le difficoltà aumentano, pertanto c'è bisogno di una soluzione nel minor tempo possibile per poter garantire loro un futuro. Il motivo principale è che siamo arrivati ormai a un punto insostenibile per mantenere le nostre famiglie. Mantiamo più di quattro mensilità, gennaio, luglio, agosto e quattordicesimi, non vediamo sbocco. Più di una volta abbiamo chiesto di parlare con il commissario, che qualche volta ci ha ricevuto rassicurandoci, però ad oggi non c'è nessuna risposta per quanto riguarda il pagamento delle spettanze che ci toccano. Oggi abbiamo fatto sciopero, proclamato il 31 agosto, grazie anche al sindacato Fiatel del settore Ambiente Gesema. Ringrazio la dottoressa Lucina Pagani che ci sta seguendo passo passo e domani siamo stati convocati in prefettura per vedere di risolvere questa situazione che ormai è diventata insostenibile. Domanda a Bruciapelo, secondo lei la Gesema ha ancora un futuro? Spero di sì perché ci sono comunque 70 famiglie di San Severino e diventa anche un problema sociale chiudere questa società. Stiamo aspettando i commissari cosa ci dicono e sperando che ci sia ancora futuro. Anche perché poi sarebbe un peccato, il Comune di Mercado San Severino in passato è stato premiato anche come tra i comuni che attuano maggiormente la raccolta differenziata. Adesso sarebbe un po' un paradosso questo. Sì, è vero che siamo stati premiati. Noi quello che facevamo dieci anni fa facciamo lo stesso lavoro, non è cambiato nulla, anzi stiamo sempre migliorando di più, sperando che questo risultato ci porta ad avere il futuro dell'azienda più roseo. Oramai siamo arrivati a maturare quattro stipendi e la nostra situazione è grave in quanto molte famiglie non riescono neanche a mettere un piatto a tavola. E voi pensate in questo momento a settembre iniziano anche le scuole per i bambini e noi non riusciamo a garantire i diritti minimi alle nostre famiglie. C'è da dire e voglio sottolineare che chi ha accusato che noi non abbiamo fatto scioper in passato è perché finché avanzavamo uno massimo due stipendi riuscivamo a garantire il servizio per la cittadinanza in quanto la cittadinanza paga i soldi e non può privarsi di un servizio che paga. E siccome noi siamo prima di essere lavoratori, siamo cittadini, ci mettiamo nei panni dei nostri concittadini che paga la spazzatura e sappiamo che noi diamo un disservizio gravissimo abbiamo scelto oggi di fare questo sciolo perché non ce la facciamo più in quanto è l'unica strada percorribile perché noi partiamo dal presupposto che la nostra protesta sarà sempre civile e attiveremo anche altre azioni legali compreso il decreto inciuntivo dei nostri TFR che sono danni che non vengono versati. Domani alle 12 siamo stati convocati dal prefetto insieme al commissario straordinario e ci daranno risposte spero risolutive a questo problema per noi ma che comunque coinvolge la cittadinanza. La cittadinanza secondo me è anche lei allo stremo perché il lavoro che noi facciamo raccogliamo spesso e sovventemente delle lamentele che si sta aumentando tutto dalla mensa al trasporto e sicuramente anche ai rifiuti ma effettivamente noi ci chiediamo i soldi che sono destinati unicamente alla raccolta dei rifiuti non ci sono e quindi noi vorremmo capire anche effettivamente questi soldi dove stanno e perché soprattutto non ci pagano. Io voglio sottolineare che io con i miei colleghi oltre a fare sacrifici perché sono da anni che avanziamo uno o due stipendi fino ad oggi a arrivare a quattro. Noi ci siamo sempre prodicati nel lavorare e veramente stiamo allo stremo delle nostre forze, delle nostre possibilità. Stessa domanda, secondo lei la Gesema ha un futuro o che futuro ha la Gesema? Guardate, secondo qualcuno siccome le società ha cercato di programmare un concordato fallimentare con il proseguimento del lavoro sembrerebbero che le possibilità di un futuro lavorativo ci sono però effettivamente noi lavoratori siamo ancora all'oscuro di tutta la situazione come è realmente. Io voglio sottolineare che la popolazione ci sta accanto e infatti colgo l'occasione di ringraziare tutti i cittadini che nel lamentarsi con noi hanno sempre espresso la volontà di appoggiare le nostre proteste. Quello di stamattina è uno sciopero programmato proprio per creare il minor disagio possibile alla popolazione. Sì, effettivamente è così perché molte persone hanno messo osservazioni dicendo voi perché avete avvisato con manifesti, sui social network che oggi c'era in programma questo sciopero. Noi l'abbiamo fatto proprio perché cerchiamo di alleviare il disagio il più possibile ai cittadini sempre perché il cittadino è un soggetto che paga e che non merita di essere trattato così. Io voglio solo aggiungere un'altra cosa che noi come lavoratori quando siamo stati convocati sui tavoli sindacali abbiamo sempre dato la nostra mano, tanto è vero che non ci pagano lo straordinario, ce lo fanno recuperare e non ci danno neanche la differenza dei festivi. Quindi per far capire, lo dico per far capire alla popolazione, ai nostri concittadini che noi cerchiamo di tutto per poter rendere il servizio più efficiente e soprattutto garantire con i nostri sacrifici che abbiamo fatto in questi anni il nostro servizio. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che noi quando siamo stati convocati ultimamente per il concordato fallimentare, anche in quell'occasione non abbiamo fatto lotte o chiusure. Il nostro tavolo è stato sempre aperto. C'è anche da dire che il commissario ci ha sempre ricevuto. Certo ci ha ricevuto, ma a me mi viene da sorridere in quanto però effettivamente passi avanti a livello economico, che poi è quello il tema principale, non ci sono stati risvolti. In questa drammatica situazione quello che ci rimette sono le famiglie vostre, le famiglie delle persone che vi vogliono bene. Sicuramente. Parlo per me e anche per gli altri. Io ho tre figli, una casa da mantenere, bolletta non finire, mi chiamano continuamente che mi vogliono togliere l'acqua, devo pagare la spazzatura. Non se ne può più, guarda, non se ne può più. Stanno mettendo in condizione le famiglie che già erano povere, le hanno impoverite di più e stanno mettendo in condizione perché è impossibile vivere. In più dobbiamo spendere i soldi per andare fino a costa per lavorare con la macchina, non ce ne abbiamo. Quindi non se ne può più, siamo proprio a terra, a terra, per non dire parolacce, siamo a terra. Questa situazione non è attuale, sono anni che andiamo avanti così. Fino adesso siamo stati buoni, bravi, ma siamo arrivati al limite. Dopo 7-8 anni la persona è stanca, è stanca, 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 perché i debiti si accumulano. Se avevi qualche soldo da parte l'hai speso. L'oro, non ne parliamo proprio, tutto venduto, cioè non sai più dove sbattere la testa. Io volevo solo dire al commissario che c'è adesso che se c'è un bel cuore, un buon cuore qua che ci sono famiglie che veramente non ce la fanno più e i figli sono grandi e devono andare a scuola e qua paghiamo tutto, ma qua i soldi sono finiti, non ce ne sono più e non sappiamo nemmeno come mangiare, mettere il tavolo. Qua non abbiamo più genitori, i genitori sono morti e prima ci potevano aiutare, ma adesso non ci possono più aiutare nessuno. Perciò vedete voi come dovete fare, perché noi tutti qua siamo proprio finiti e siamo depressi e non so, può darsi pure che facciamo qualche atto così, che andiamo in galera, diciamo, perché non ce la facciamo più. Commissario, vedete voi come dovete fare e come pagarci. Grazie e arrivederci. Il cervello è uno sfoglio di cipolla, purtroppo ci hanno miso all'estreme. Voglio ringraziare Lucia Pagani che ci sta vicino. Tutto qua.